Cubica e lacca presenta strani mondi da giorni un'astronave è partita dalla terra per esplorare la misteriosa costellazione di così cosa formata da mondi strani come questo dove i cani fanno da padroni e gli uomini una vita da cani a a a a a a Grazie a tutti. A questo punto i nostri piccoli amici decidono di rimettere le cose a posto. Cubic, caramella nutriente squisita. È tutto burro, latte e zucchero. Cubic, tutti forti e più svegli ci fa. Deliziosa, ci sentiamo rinascere. Cubic, fa più forti e più intelligenti. È tutto burro, latte e zucchero. Cubic e latte, calorie e nutrimento ci dà. Tutti forti con Cubicela.